ariete giornata un po critica nelle questioni amorose esigete verifiche se avete qualche disagio in un rapporto in ogni caso siete un po chiusi verso l'amore insoddisfatti e forse troppo razionati pragmatici avete difficoltà anche a stabilire un contatto sereno con la vostra interiorità toro marte in opposizione suscita ancora qualche collera ma vi arrabbiate per una giusta causa e sapete far valere le vostre ragioni il momento è favorevole all'amore alle storie solide inoltre la buona fortuna vi assiste con possibili eventi inattesi e positivi gemelli il periodo mostra alcune perplessità in ambito lavorativo economico non è semplice a volte oltrepassare ostacoli e rallentamenti diventate impazienti e irrefieti però dovete farvene una ragione e procedere sfoderando la vostra ironia a chi si frappone tra voi e un obiettivo cancro il cielo astrale vi mette alla prova con un accumulo planetario in aspetto di opposizione formato da saturno plutone venere e giove è la sfera sentimentale ad essere adesso un po' provata emergono difficoltà che vi inclinano a pensieri di cambiamento decisivo leone rimane quella sensazione di insofferenza e irritabilità che vi pervade da qualche tempo causa marte dissonante tuttavia va migliorando l'assetto astrale e arrivano schiarite in ambito lavorativo nei rapporti con chi vi circonda possibili spostamenti e piccole soddisfazioni vergine potreste mettere in discussione un programma personale o di lavoro per una questione critica che non si allinea con le vostre aspettative è un momento di ripensamento che sarà comunque chiarificatore in ogni caso godete di un quadro astrale di ottima qualità che vi apre a grandi prospettive bilancia fase a tratti un po' dura ma decisiva per questioni che si trascinano da tempo l'amore è uno dei bersagli di questi disagi un rapporto dovrà assumere contorni netti essere consolidato o eliminato ma non si chiedono più sconti migliora invece l'andamento in campo e con economico scorpione marte in transito nel segno è foriero di passionalità quindi fate in modo che il vostro impeto sia costruttivo positivo e sia un valore aggiunto alle vostre iniziative le influenze planetarie vi favoriscono e rendono agevole il vostro cammino nonostante qualche sorpresa a volte poco gradita sagittario movimento in campo finanziario con una sistemazione soddisfacente delle vostre entrate l'ingresso imminente di mercurio nel segno che si accoda al sole già in transito sarà un ulteriore stimolo a concentrarvi sulle questioni di lavoro con risultati positivi capricorno state attraversando una fase di espansione personale di fortuna in ciò che intraprendete che recca benefici in ogni settore della vita l'amore è al centro delle vostre attenzioni ma in questi giorni avvertite un calo di entusiasmo un po di distacco dovuto forse a distrazioni concrete acquario la spinta emotiva è ancora alta con marte dissonante che provoca una certa intolleranza l'incapacità di sopportare ciò che non condividete tuttavia l'andamento del quotidiano appare abbastanza scorrevole e vi regala qualche conferma personale qualche piccola vittoria pesci in un quadro astrale così benevolo potete riversare in amore tutte le vostre speranze è un momento importante per trovare un equilibrio concreto e razionale in una storia amorosa senza trascurare il lato sentimentale curate il sottofondo di stanchezza regalandovi un trattamento benessere buone stelle